Oggi voglio spiegarvi perché e come sostenere una testata giornalistica indipendente come la mia. Prima è necessario che sottolinei una cosa importante. Non è un profilo social o un sito web di informazione, ma un notiziario regolarmente registrato al tribunale. Ciò impone la presenza di un responsabile dei contenuti che deve essere tassativamente un giornalista iscritto all'ordine. Come la produzione di qualsiasi cosa o servizio, anche quella editoriale e giornalistica ha i suoi costi, soprattutto se fatta sul campo e con la verifica delle informazioni e necessita di attrezzature e conoscenze specifiche. Per restare indipendente e libera ho deciso di non ospitare banner pubblicitari sul sito, perché sarei entrata in un circolo vizioso che mi avrebbe costretta a pubblicare solo news a chiappa click, come si chiamano oggi. Dunque, io e altri giornalisti che condividono la mia vision ci adoperiamo con professionalità e serietà autofinanziandoci. Per questo motivo, diversamente da altri giornali o agenzie di stampa, non è richiesto un abbonamento, ma una donazione in cambio della quale si ottiene l'accesso per 12 mesi anche agli articoli chiusi da password, come sistema di crowdfunding vuole. Donare è semplicissimo, basta cliccare sull'apposito tasto e procedere secondo indicazioni. Riceverete una mail con le credenziali e la data di scadenza di accesso che non prevede rinnovo automatico. La donazione minima è di 10 euro che, spalmati su un anno di attività e professionalità, non coprono nemmeno il costo di un caffè al mese. Allora, che fate? Ce l'offrite?